Se vuoi realizzare un video di qualità con un drone, un video emozionante che trasmetta qualcosa a chi lo sta guardando, non bisogna concentrarsi solo sulla risoluzione e sulla presa cromatica della telecamera, ma bisogna valutare anche altri aspetti che spesso vengono tralasciati. Le capacità di ricontrollo del pilota sono fondamentali e solo grazie all'esperienza e dal continuo allenamento che il pilota può sviluppare la sensibilità necessaria per filmare video fluidi e di effetto. Non avere paura di sperimentare e soprattutto divertiti a pilotare il drone anche fuori dal contesto di produzione video, in questo modo affinerai la tua confidenza e ti sentirai molto più sicuro soprattutto in condizioni avverse. Il montaggio svolge un ruolo fondamentale, non puoi accontentarti di mettere insieme delle scene prese a caso con il tuo drone di ultima generazione, ma devi narrare una storia che racconti a chi sta provando del tuo video l'indissolubile legame che vincola la tua passione al lavoro che stai realizzando. Utilizza una colonna sonora adatta al contenuto che vuoi trasmettere e aggiungi effetti sonori ambientali per dare maggiore profondità alle scene che stai mostrando. Ci sono migliaia di librerie gratuiti online e quindi hai tutta la scelta che vuoi per arricchire il tuo messaggio, il messaggio che lo spettatore interpreterà. Grazie.